Michelle Hulbeck, Serotonina, ultimo romanzo, ormai vecchio di più di un anno. Lo riprendo in questo mese di luglio, dove il caldo destabilizza con più facilità, almeno per quanto mi riguarda. E quindi la dichiarazione di intenti del buon Michelle, vecchia canaglia, fin dal titolo, Serotonina, mi sembra appropriata. Un romanzo necessario? Per quanto mi riguarda no, non mi nascondo e dico la mia, ma giustamente trovo che ognuno debba fare le proprie divalutazioni. Qualcuno potrebbe anche dirsi, ma perché i romanzi, o più in genere i libri, o ancora più in genere le opere, più o meno d'arte, devono essere necessarie? Anche qui lascio ad altre le valutazioni, per me sì, e soprattutto quando si hanno le potenzialità che la vecchia canaglia di Hulbeck sicuramente ha, o ha avuto. Bene, assaggiamo questo Serotonina. È una piccola compressa bianca, ovale, divisibile. Verso le 5, a volte le 6 di mattina mi sveglio. Il bisogno è al culmine. È il momento più doloroso della mia giornata. Il mio primo gesto è attivare la caffettiere elettrica. La sera prima ho riempito il serbatoio di acqua e il filtro di caffè macinato. Di solito è malongo, sono rimasto piuttosto esigente in fatto di caffè. Mi accendo una sigaretta solo dopo aver bevuto un primo sorso. È una costrizione che mi impongo. Un successo quotidiano che è diventato il mio principale motivo di orgoglio. Va comunque detto che il funzionamento delle caffettiere elettriche è rapido. Il sollievo che mi dà la prima boccata immediato di una violenza stupefacente. La nicotina è una droga perfetta, una droga semplice e dura, che non dà nessuna gioia, che si definisce interamente con l'astinenza e con la cessazione dell'astinenza. Qualche minuto più tardi, dopo due o tre sigarette, prendo una compressa di Captorix con un quarto di bicchiere di acqua minerale, in genere Bolvic. Ho 46 anni, mi chiamo Florent Claude Labruste e detesto il mio nome. Credo che derivi da due parenti che mio padre e mia madre, ciascuno dal proprio lato, volevano onorare. La cosa è ancora più spiacevole dal momento che non ho nulla da rimproverare ai miei genitori. Sono stati genitori eccellenti sotto ogni aspetto. Hanno fatto del proprio meglio per darmi le armi necessarie nella lotta per la vita. E se alla fine ho fallito, se la mia vita si conclude nella tristezza e nella sofferenza, non posso imputarlo a loro, bensì a una spiacevole concatenazione di circostanze sulla quale avrò modo di tornare. E che a dire il vero costituisce proprio l'argomento di questo libro. Non ho assolutamente niente da rimproverare ai miei genitori, a parte questo minimo, questo fastidioso ma minimo episodio del nome. Non solo trovo ridicola la combinazione Florin-Claude, ma mi disturbano di per sé i suoi elementi. Insomma, considero questo nome del tutto sbagliato. Florin è troppo dolce, troppo vicino al femminile Florence, in un senso quasi androgino. Non corrisponde affatto al mio viso di allineamenti energici, perfino brutali per certi versi, che è stato spesso, almeno da alcune donne, considerato virile, ma mai, proprio mai, il viso di un finocchio botticelliano. Quanto a Claude, neanche a parlarne. Mi fa pensare subito alle Claudette. E appena sento pronunciare questo nome, mi torna in mente una ghiacciante video vintage di Claude François, ripassato a ripetizioni in una serata di vecchi froci. Cambiare nome non è difficile. Ovviamente non intendo dal punto di vista amministrativo. Dal punto di vista amministrativo non è possibile quasi niente. L'amministrazione ha come scopo ridurre al massimo le tue possibilità di vita, sempre che non riesca molto semplicemente a distruggerla. Dal punto di vista dell'amministrazione, un buon amministrato è un amministrato morto. Parlo più semplicemente dal punto di vista dell'uso. Basta presentarsi con un nome nuovo e nel giro di qualche mese o perfino di qualche settimana si adeguano tutti. Non viene neanche più in mente a nessuno che in passato ti sia potuto chiamare in maniera diversa. Nel mio caso l'operazione sarebbe stata tanto più semplice, in quanto il mio secondo nome, Pierre, corrispondeva appieno all'immagine di fermezza e virilità che avrei voluto comunicare al mondo. Però non ho fatto niente. Ho continuato a lasciarmi chiamare con questo schifoso nome, Florent Claude. Sono solo riuscito a ottenere da alcune donne, per la precisione da Camille e da Kate, ma ci tornerò, ci tornerò, che si limitassero a Florent. Dalla società in generale non ho ottenuto niente. Su questo punto, come su quasi tutti gli altri, mi sono lasciato sballottare dalle circostanze. Ho dimostrato la mia incapacità di riprendere in mano la mia vita. In realtà la virilità che sembrava sprigionarsi dal mio viso squadrato, coi suoi spigoli schietti e dai miei tratti marcati, era solo un inganno. Una pura e semplice fregatura, della quale, certo, non ero responsabile. Dio aveva disposto di me, ma io ero soltanto, in realtà ero soltanto, ero sempre stato soltanto un inconsistente culattone. E ormai avevo 46 anni. Non ero mai stato capace di controllare la mia vita. In poche parole, mi sembrava molto probabile che la seconda parte della mia esistenza fosse destinata a essere, come la prima, solo un'estenuata e dolorosa prostrazione. I primi antidepressivi noti, Seroplex, Prozac, aumentavano il tasso di serotonina nel sangue, inibendo la ricaptazione da parte dei neuroni 5-HT1. All'inizio del 2017, la scoperta del Capton DL aprì la strada a una nuova generazione di antidepressivi dal meccanismo in fondo più semplice, dato che si trattava di favorire la liberazione per osocitosi della serotonina prodotta a livello della mucosa gastrointestinale. Alla fine di quell'anno, il Capton DL fu messo in commercio con il nome di Captorix. Si rivelò subito di un'efficacia sorprendente, permettendo ai pazienti di affrontare con inedita spigliatezza i principali riti di una vita normale in seno a una società evoluta, toletta, vita sociale ridotta al buon vicinato, pratiche amministrative semplici, senza minimamente favorire, come gli antidepressivi della generazione precedente, le tendenze al suicidio o all'automutilazione. Gli effetti secondari indesiderabili del Captorix riscontrati più spesso erano la nausea, la scomparsa della libido, l'impotenza. Io non avevo mai sofferto di nausea.